Un saluto agli amici di Domenica Italiana e dalla redazione di World News Web 24 e dunque è calato il silvario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo che ha incoronato Marco Mengoni al termine di una settimana ricca di musica, emozioni e polemiche. I pronostici ampiamente rispettati. Marco Mengoni è il trionfatore assoluto di Sanremo 2023 con due vite, ma ancora più importante la sua umiltà. In tanti hanno apprezzato la dedica dopo la vittoria a tutte le artiste del Festival che hanno presentato bellissime canzoni. In dubbio e coerente Mengoni non è una star a tutti i costi, vuole vivere la normalità come è giusto che sia. La serata finale, oltre alle emozioni, sia di Gino Paoli e di Ornella Manoni, oltre che della Ferragni, non si capisce perché dopo la prima serata sia stata richiamata anche per quella appena trascorsa e non solo mancate polemiche in diretta con Anfedez, protagonista suo malgrado di un incidente amoroso in diretta tv. A tarda notte l'attesa lettera del presidente ucraino Zelensky, rigorosamente dopo la gara, attesa e sentita in silenzio di grande rispetto. Sportunatamente, dice Zelensky, per tutto il tempo della sua esistenza l'umanità crea non solo cose belle e purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l'Ucraina sicuramente vincerà questa guerra insieme al mondo libero, grazie alla voce della libertà, della democrazia e certamente della cultura. Saremo chiude i battenti, fra ascolti stratosferici, polemiche e soprattutto belle canzoni. La musica è tornata al centro della scena e il vulcro più bello della settimana, che ricorderemo con grande emozione. E ora il calcio e il campionato di Serie A con la terza giornata del giurale di ritorno che viene ancora il Napoli in ammetta alla prossimità, ma soprattutto le rinascite si spera di Milan e Juventus. Il Napoli continua la sua marcia verso lo Scudetto. Gli azzuri di Spalletti nel posticipo della domenica hanno battuto 3-0 la Cremonese con le firme di Varaskelia nel primo tempo e poi nella ripresa di Osimen ed Elmas. La Juventus riparte per cercare di togliere il meno 15 della giustizia sportiva. I bianconeri vincenti allo stadium 1-0 sulla Fiorentina con il gol di Rabiù. Il Milan si lancia in chiave Scudetto. I rossoneri venerdì avevano battuto il Torino con il ponteggio di 1-0. In chiave salvezza pirotecnici 2-2 sia per Empoli e Spezia con gli spezzini avanti di Dureti che si sono fatti rimontare dai padroni di casa che anche per l'Udinese che ha dovuto subire il ritorno del Sassuolo con il risultato finale già deciso alla fine del primo tempo. Continua la bella favola del Monza vincente 1-0 a Bologna rilanciandosi ancora di più in chiave salvezza per l'Europa. Ultimo successo dell'Atalanta per 2-0 mentre la Roma si deve accontentare di un punticino a Lecce 1-1. E questi sono gli avvenimenti che vi abbiamo raccontato questa settimana. Vi diamo un momento come sempre tra sette giorni. Restituiamo la linea a Pasqual Paolita per domenica italiana. Mimmo Siena, Ornios 24.